Loro non sono in gara, hanno vinto... No, sono arrivati terzi nello scorso, giusto? Sì, avete vinto lo stesso. E ripetisco che siamo fortunati a non essere in gara. Per cui con questo check ve la siete anche... Ve la siete anche un po' tirata, secondo me. Mars, ma cosa sei stasera? Una scimmia. Strano. Ragazzi, facciamo un bel applauso. Ehi! Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Senza non contest è bello essere di nuovo qui, ci sono state un po' di modifiche nel gruppo ma, insomma, siamo ancora a 3 anni, questa è come l'abbiamo fatta mentre eravamo qua nel contest, si chiama The Swinger! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!